Buongiorno e ben trovati In questa edizione di Mattino 6, venerdì 27 aprile 2018, pronti a sfogliare le pagine dei quotidiani nazionali dove chiaramente tiene sempre banco, tengono banco le consultazioni, le trattative per la costituzione di un nuovo governo e poi le pagine dei quotidiani locali. Vedremo anche alcuni dei servizi realizzati ieri dalla redazione del Tg6. Iniziamo subito con la rassegna delle quattro edizioni del centro. Qui siamo sulla edizione di Pescara, l'apertura dedicata all'omicidio che si è verificato nel giorno della festa della liberazione, lo scorso 25 aprile. Pescara parla l'omicida del vicino, Mucciante si difende dopo le pugnalate al muratore, ha cominciato lui. E poi un altro grave fatto di sangue si è verificato ieri in provincia dell'Aquila a Carsoli, donna uccisa, sospettato il compagno. Femminicidio a Carsoli, segni di violenza sulla 46enne trovata nuda sul letto. Scendiamo e siamo sulla fotonotizia. Bandiera blu, la costa pescarese resta a bocca asciutta. Il 7 maggio ci sarà la cerimonia di consegna a Roma. Ecco qui le bandiere blu con i comuni di Tortoreto, Giulianova, Roseto, Pineto, Silvi, Fossa, Cesia, Vasto e San Salvo. E poi ancora in basso il politico che torna in pista, aeroporto d'Abruzzo Paolini, l'ex vicepresidente della regione, Enrico Paolini, verso la presidenza della Saga. E poi il governatore e senatore finisce 16 e 12 per D'Alfonso, può mantenere due incarichi. Poi ancora dei richiami, siamo a Montesivano per la cronaca, muore a 44 anni il ristoratore della bussola Andrea Piersante. Sempre a Pescara i condomini fanno arrestare gli spacciatori. E a Pescara, ancora a Riviera Nord, oggi riapre il primo tratto. In basso il buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, se l'angelo che ci salva è il nostro vicino. Proseguiamo e siamo sull'edizione aquilana del centro. Centro, uccisa e lasciata nuda sul letto a Cazzoli, segni di violenza sulla donna di 46 anni, sospettato il compagno. Chiaramente la notizia che abbiamo visto sulla prima pagina dell'edizione pescarese, qui dà il titolo d'apertura. Sotto la testata, l'Aquila, centrale unica contesa. Sul 118 è scontro, bianchi, atto ostile alla città. E poi sul fronte della perdonanza, il cardinale Brass scelto per aprire la porta santa. Scendendo, la fotonotizia è legata al titolo d'apertura, al femminicidio di Cazzoli, nel tondo la donna di origine rumena, Violetta Blindescu, la vittima. Altri richiami, in centro storico all'Aquila, disco orario nelle aree parcheggi. Ad Avezzano, De Angelis trova la cura, nuova giunta a Sulmona, invece veterinario, azzannato da tre cani. Proseguiamo e siamo sull'edizione terramana del centro. Madre per la prima volta 54 anni, parto eccezionale all'ospedale Mazzini di Teramo, la donna è di Silvi. E poi ancora per la politica, Teramo al voto, morra mollato dai civici, oggi decide la Lega. E poi ancora truffa azioni ex Tercas, il PM chiede sei anni per l'ex direttore generale Di Matteo. A Scerne, operata la bimba, azzannata dal cane di casa. Siamo sull'edizione di Chieti, ecco l'apertura si schianta contro tre auto e muore. Una tragedia a Chieti davanti all'ospedale, il conducente colto da infarto. Poi sempre a Chieti, Ateneo ex DG ed ex rettore a processo, a vasto, auto bruciata, c'è la pista professionale. Di nuovo a Chieti, via libera a Mirò, il grande centro commerciale. E ora passiamo al messaggero Abruzzo. Ecco l'apertura, il giallo della donna massacrata, car solo il corpo senza vita della romena Violetta Blindescu, trovato in una vecchia abitazione, uccisa di botte o morta per stenti, segregazione, le ipotesi. Fermato e rilasciato il compagno. Poi ancora, delitto russo, i familiari negano liti per i rumori di condominio, riferimento all'omicidio del 25 aprile. Sotto la testata, Pescara prova costume vicina, ecco i forzati di diete e fitness. E poi a L'Aquila, L'Aquila rinasce in centro, torna il traffico discolario in arrivo. E poi per lo sport, calcio avezzano, inibito per un anno il presidente Gianni Paris. La decisione del Tribunale federale, il patrone neroverde, ha fatto da procuratore per un giocatore stop anche al segretario Puglielli. E poi leggiamo di spalla, bus, sciopero dopo lo scontro tra Pietrucci e D'Alessandro. La querelle interna al PD sulle aree interne, mobilita i sindacati. E poi ancora, vediamo al centro la fotonotizia su D'Alfonso, deciderà il consiglio, la giunta passa la palla. E sono polemiche, qui vediamo una foto del governatore e senatore Luciano D'Alfonso tra il vicepresidente del CSM Legnini e il capo dello Stato, il presidente della Repubblica Mattarella, proprio nella visita al sagrario di Taranta Peligna. Sempre in taglio medio, Tercas, sei anni a Di Matteo, le richieste del PM in tutto, sono 14 i responsabili del crack individuati dall'accusa nella requisitoria. A Chieti rinvio a giudizio per gli ex vertici dell'università, in particolare l'ex rettore dell'annunzio di Iglio, l'ex direttore generale del Vecchio. E poi in basso il caso a Pescara, troppe separazioni, un nuovo tribunale. Proseguiamo, siamo sulla città, il quotidiano della provincia di Teramo, la vicenda Tercas in primo piano. Tercas chieste 15 condanne per truffa, pronti contro termine. Il PM propone oltre 25 anni di pena per l'ex DG Di Matteo e 14 dirigenti. A Pineto, siamo alla cronaca sotto la testata, aperta l'inchiesta sulla bambina azzannata. E poi al centro la fotonotizia con il governatore e senatore Luciano D'Alfonso, poltrona doppia, regione o senato, a decidere. Sarà il consiglio di spalla la politica terramana col centro-destra spaccato. Di Dalmazio è stato il primo a chiedermi di candidarmi, sono le parole di Giandonato Morra. E poi a Nereto, l'ex sindaco Di Flavio, non mi ricandido. Sotto la fotonotizia, Tercop, emergenza lavoratori, sitini in comune, prefettura dopo il bando sui parcheggi. E infine per lo sport, Serie C, Teramo, ultima chiamata dei tifosi per salvarsi. Ieri esposti degli striscioni in città, come vediamo in questa foto. Prima di passare ai quotidiani nazionali andiamo a vedere un'altra notizia che non è stata riportata sui quotidiani perché questa cosa si è verificata purtroppo nella tarda serata di ieri. Siamo sul sito zona locale, vediamo tragico incidente sull'A14, tir si ribalta e muore il camionista. Ecco qui, tragico incidente sul tratto vastese dell'A14, polizia stradale, vigili del fuoco e 118 sono intervenuti nella tarda serata a soccorrere un camionista rimasto incastrato nell'abitacolo del tir che si è ribaltato sull'autostrada ma non c'è stato nulla da fare. L'incidente è avvenuto attorno alle 22.45 al chilometro 438 nord tra i due caselli di Vasto. Il traffico è rimasto bloccato verso il settentrione con uscita obbligatoria al casello Vasto Sud per poi percorrere la SS-16. Ecco qui un'altra immagine piuttosto inquietante di quel che resta del camion e in particolare dell'abitacolo da dove purtroppo non ha avuto scampo l'autista del tir. Proseguiamo ora la nostra rassegna e passiamo alle prime pagine nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera PD e 5 Stelle avanti Tra i dubbi Fico, dialogo avviato uno spiraglio da Renzi che poi frena Di Maio, anche lui, al tavolo Mattarella tenderà fino alla direzione del 3 maggio lite sulle tv tra il leader Grillino e Berlusconi E poi ancora andiamo a vedere la fotonotizia Pena troppo lieve ai violentatori Le donne in piazza per il giudice è stato abuso e non stupro I fatti sono legati ad un abuso sessuale che è stato perpetrato ad una ragazza di 18 anni di Madrid da parte di alcuni giovani di San Firmino in Spagna e questa condanna evidentemente è stata troppo lieve e ha suscitato le proteste in piazza Ancora, vediamo in taglio medio Investi la folla in Italia L'ordine dell'Isis dalla Libia Arrestato un profugo arrivato con un barcone E ora proseguiamo e siamo su Repubblica Il titolo d'apertura è ancora dedicato alle trattative per il nuovo governo Movimento 5 Stelle PD Guerra sui programmi Torna il rischio delle elezioni di Maio contro Berlusconi sul conflitto di interessi Dem pressing per il rientro di Renzi E poi la foto notizia con il riavvicinamento tra le due Coree Kim e Moon L'incontro della pace tra i gemelli diversi della Corea In basso a Pozzuoli Arrestato immigrato del centro d'accoglienza Dal Gambia all'Italia 21 anni Giura fedeltà al califato Dovevo uccidere con l'auto E poi ancora la crisi medio orientale Demistura dell'ONU In Siria ha evitato un conflitto globale Pericolo Iran-Israele Poi sul fronte editoria Gedi, Cioli, Nuova, Adi, Mondadori Lascia Marco De Benedetti Nove anni di successi E avanti ancora con la stampa Ecco l'apertura Salvini Addio a Silvio per il governo Il leader della Lega Dopo il voto in Friuli Pronto a scaricare Berlusconi Per sostenere Di Maio Fico chiede a Mattarella Più tempo per l'ASPD 5 Stelle Direzione Demi il 3 maggio Condizioni di Renzi Jobsect è un premier diverso In basso la fotonotizia Noseda lascia il regio disgustato Nella crisi del teatro torinese Rompe l'accusa del direttore musicale Poi ancora sul fronte economia Draghi preoccupato La ripresa rallenta Dice il presidente della BCE Poi l'intervista a Padoan Che avverte Difendiamoci con le riforme Dice il ministro Avanti ancora Siamo sul sole 24 ore Nel DEF Debito al 130,8% Nuovo allarme pensioni BCE Troppe incertezze Sulla crescita Qu'è ancora necessario Stima al rialzo Discesa al 122% In tre anni Senza riforme previdenziali Impennata al 150% Poi ancora FCA Utili trimestrali A un miliardo Consegne A più 5% Grazie a GIP Le parole Di Sergio Marchionne Possibilità Di restare Dopo il 2019 Zero Per la prima volta Più profitti Di General Motors Debiti Verso Quota Zero E poi In taglio medio Privacy Solo il 12% Dell'industria È ok Su banche Sanità e commercio L'impatto maggiore Della sicurezza dati Il 25 maggio Il nuovo regolamento Ma l'88% Delle aziende Non ha il budget Pluriennale Il fatto quotidiano Ecco L'apertura Renzi e compagni Snobano Mattarella I giovani PD Per l'intesa Col Movimento 5 Stelle Le parole poi Di Roberto Fico Dialogo 5 Stelle PD avviato Ma la direzione La direzione Del PD Slitta Al 3 maggio Poi ancora In taglio medio Def e IVA Mancano 30 miliardi E nessun partito Sa dove Trovarli Nel 2019 Il rischio stangata Via libera Gli aiuti Per affari Con Egitto E Qatar Il governo approva Il documento Sui conti Con la previsione Che la tassa Non salirà Manca la copertura Poi Azioni disciplinari CSM Sui processi Ai magistrati Ecco le accuse A Legnini Vice presidente Del consiglio superiore Della magistratura E poi l'indagato D'Agostino In affari Contiziano E in visita a Matteo Sul castello Dei film Siamo al manifesto Ecco il titolo D'apertura I ragazzi Del muretto Il presidente Esploratore Roberto Fico Sale al Quirinale Riferisce Di un esito positivo Del dialogo PD 5 Stelle Martina Fatti passi avanti Ma i Renziani Bastonati dal voto Alzano il muro Contro l'accordo Deciderà La direzione Convocata Per il 3 maggio E poi La cronaca Che leggiamo In taglio medio Stupro di gruppo Solo un abuso Sconto di pena Al branco Una sentenza Che indigna La Spagna Come avevamo visto Anche sulla prima pagina Del Corriere Della sera E ora siamo Sul messaggero Movimento 5 Stelle E PD Provano a trattare Fico Esito positivo Ma il mio mandato Finisce qui Grillini e Dem Fatti dei passi avanti Resta l'altola Di Renzi Sfida in direzione L'ite di Maio Berlusconi Sul conflitto Di interessi E poi Per lo sport Domani L'anticipo Champions La Roma ci crede Con il Chievo Sarà turnover E poi L'appello Di Padoan Al prossimo Esecutivo Def economia in crescita Dell'1,5% Ma fermare Gli aumenti Dell'IVA E poi Ancora La vicenda Dello stupro In Spagna Con la fotonotizia Del messaggero Stupro a Pamplona Appena lievi Città in piazza Per i giudici La violenza di gruppo Fu solo abuso Lei non reagì E poi In taglio medio In auto sulla folla Arrestato A Napoli Prima dell'attacco E un giovane del Gambia Seguace del Califato Arrivato in Sicilia In barcone E richiedente Asilo Il tempo Assicurazione auto Più cara Con le buche Che è stangata Aumenti per chi abita In zone Ad alta densità Di voragini E per la prima volta Nelle raraggi Dirigenti A processo Per i crateri Killer Poi Ancora Arrivano I barbari In 5.000 Del Liverpool Giurano vendetta A Roma Sarà Un mercoledì Di paura La prima pagina Di Libero Ecco il titolo D'apertura Licenziati 20.000 maestri Una legge Scandalosa Fabbrica Disoccupati Si pretende Che gli insegnanti Elementari Abbiano una laurea Chi non ce l'ha Pur essendo stato In cattedra Molti anni Viene cacciato E costretto A fare la fame Scatta la protesta Davanti al ministero E poi la fotonotizia Fico Non ha combinato nulla Il suo mandato È finito La parola al PD I democratici si riuniscono Fra una settimana Per decidere Se partecipare Al governo Avanti ancora Con la prossima testata Che è la verità Che presenta Questa apertura Porte aperte A chi ci odia Li accogliamo E loro ringraziano Progettando una strage Con l'auto Richiedente asilo Pianificava attentati In nome dell'Isis È solo l'ultimo Di una lunga serie Ma il DEF Stanzia 5 miliardi Per accudirli 700 milioni in più Anche se calassero Gli sbarchi E poi la fotonotizia Con un primo piano Di Luigi Di Maio Di Maio vuole difendere Salvini Da Mediaset Il CAV Minaccia Le TV E poi L'avvenire Ecco L'apertura Fake news L'Europa Prova a fare Sul serio Un codice Verificatori Sanzioni E premi Bruxelles Si muove contro Le manipolazioni Dell'informazione Su web Social E media Tradizionali Misure per ora Solo sperimentali E poi Nella fotonotizia Nuova strategia Per superare lo stallo Il caso del piccolo Alfie Evans Alfie ora il padre Tratta con i medici E in Italia Si prega In taglio medio Per la politica Fico chiude da ottimista La palla E nel campo PD E infine Il mattino Vediamo L'apertura Napoli Kamikaze Pronto a colpire Preso immigrato Del Gambia Mi hanno chiesto Di fare una strage Con un'auto In attesa Dell'asilo Era in un albergo Di Pozzuoli Nei video Il giuramento Al Califfo Io In missione Pregate Per me E poi per la politica Movimento 5 Stelle LPD Via al dialogo Ma resta il nodi Renzi Di Maio Attacca Berlusconi Sulle tv Possiamo lasciare Le prime nazionali Torniamo Sui quotidiani locali E iniziamo Dal centro Pagina 2 Con la bandiera Blu E con i comuni Che hanno ottenuto Il riconoscimento Ecco qui Le spiagge Abruzzesi Da premiare Bandiere blu 8 sindaci Invitati Alla festa Il 7 maggio La cerimonia Di consegna A Roma Ecco Chi ci sarà Domina Il Terramano Esultano anche Fossa Cesia Vasto E San Salvo E qui vediamo La cartina Con Il Terramano Che fa Praticamente Il pieno Vediamo Dottoretto Giulianova Roseto Pineto E Silvi E poi Dobbiamo andare In provincia Di Chieting La parte più Meridionale Con Fossa Cesia Vasto E San Salvo E poi ancora Di spalla Leggiamo Impianto In Abruzzo Iniziativa del Tar del Lazio Inceneritore Parte il ricorso Alla Corte Di Giustizia Europea Poi in Basso Pressione I controlli Sono gratis In Abruzzo Sono 19 Le farmacie Che hanno aderito All'iniziativa La campagna Di prevenzione Che sarà attiva Dal 7 Al 12 Di maggio E proseguiamo Siamo a pagina 3 Paolini E Bosco Svelate le nomine Saga Il nuovo CDA Dell'aeroporto D'Abruzzo L'ex vicepresidente Della regione Prendi il posto Di Mattoscio L'avvocatessa Teatina Affianca Davoglio Schierato E Menozzi E poi In Taglio Medio Leggiamo Il sindacato Proclama Lo sciopero Dei bus Trasporto locale 4 ore di stop Il 25 maggio Contro la Mancata Approvazione Dei servizi Minimi A tal proposito Vediamo Il servizio Del TG6 Quali sono Le ragioni Di questa Giornata Di agitazione Che si terrà Il 25 Beh Noi siamo Molto preoccupati Per uno stallo Che si registra Nella prosecuzione Delle attività Di competenza Della regione Abruzzo Rispetto Alla riforma Dei trasporti Abbiamo fatto La società Unica Di trasporto Mancano Dei pezzi Importanti Il primo E la definizione Dei servizi Minimi Di trasporto Pubblico Locale Su questo C'è una Diatriba Tra il presidente Della seconda Commissione L'ex Consigliere Delegato Dei trasporti Per delle Relazioni Di traffico Commerciale Sull'Aquila Noi riteniamo Che debba Essere immediatamente Ha aperto un tavolo Di confronto Di merito E bisogna Far avanzare Il processo Di trasformazione Della delibera Di giunta In legge Regionale Questo è necessario Sia per consolidare L'inaus Di affidamento A tua Dei servizi Il 67% Di servizi Conseguentemente Permette Di salvare I 1600 Posti di lavoro Dei dipendenti Di tua Ma non solo Questo Consente anche Di indire Le gare Che servono Per affidare Ai vettori Privati Il restante 34% Oggi In conferenza Stampa Avete anche Parlato Di una Perdita Di tua Durante L'esercizio In corso Sì Non è solo Una perdita Di tua Cioè Nel 2014 Avevamo 187 milioni Di uori Ferro Gomma Di finanziamento Adesso siamo A 177 milioni Ci sono 10 milioni In meno Quindi Su tutto il TPL Abruzzese Sta cosa Pesa E quindi Dovremmo capire Come intervenire La regione Dovrebbe individuare I servizi Minimi In rapporto Ai soldi Che ha E eliminare Le sovrapposizioni Che ci sono E vedere Quali sono I servizi Minimi Da mettere A gara Senza Questi servizi Minimi Che alcuni Vorrebbero bloccare Non si può Fare neanche Le gare Adesso Resta Soltanto Da fare L'ultimo Passaggio Che è quello Dell'approvazione Della delibera Che consentirà L'affidamento Dei servizi Alla società Per tutto Il resto Del territorio Perché Quei chilometri Che sono stati Sottratti Alla contribuzione Perché gestiti Anche dai privati Vengono Spalmati Su altre Relazioni Delle aree Interne Delle aree Penalizzate Faccio un esempio Per tutti Un lavoratore Di Castiglione Che va a vasto Nessuno Ha considerato Di questi attori Che stanno Sul tavolo Che probabilmente Quello viene con la macchina E invece potrebbe Fruire di un servizio Migliore Dando una corsa Aggiuntiva E quindi I contributi Dei cittadini Ebruzzisi Vanno impiegati In maniera Utile Ed efficiente Sempre sul centro Siamo alla Politica Il caso Incompatibilità Del presidente Senatore D'Alfonso Finisce 16 a 12 D'Alfonso Per ora Resta Governatore Il verdetto Della giunta Regionale Per le elezioni Fa inferocire Le opposizioni Movimento 5 Stelle Forza Italia Gridano allo scandalo Ma lui ribatte Convincero Gli incolti E poi domani Il convegno Da Cocullo Riparte La sfida Dei piccoli Comuni Proseguiamo E siamo sulle pagine Della cronaca Di Pescara Ancora con L'omicidio Di due giorni fa L'omicidio Di via del circuito L'ho incrociato Giù Ha cominciato Lui Mucciante Davanti ai carabinieri Ricostruisce i motivi Della lite Con il muratore Ma la dinamica Non è chiara Oggi l'autopsia Rivela il numero Delle coltellate Il 51enne Era esasperato Dai rumori Provenienti Dall'appartamento Al secondo piano Sopra quello suo Dove abita La famiglia Russo Ecco qui Salvatore Russo La vittima E poi L'assassino Roberto Mucciante Avanti ancora E Siamo A Dei casi Che vengono Richiamati dal Centro E che Fanno tornare Che tornano alla mente Dopo quello che è accaduto Due giorni fa La figlia di Orlando È un dolore Che si ripete Tre anni fa Il pasticcere Fu ucciso dal vicino Per lo stato La vita di papà Vale zero Dice appunto La figlia del pasticcere Ucciso E con la madre Il fratello Si stringe Alla famiglia Russo Andremo Ad abbracciarli Poi ancora La convivenza Forzata Causa Liti Parla di Federico Rappresentante Degli amministratori Di condominio I vicini Non si scelgono Proseguiamo Siamo a pagina 17 Collaboratore Di giustizia Protesta Sul tetto Del carcere L'uomo È contrario Al trasferimento Dopo sette ore È stato convinto A scendere Nardella Della Will C'è carenza Di organico I sistemi Di sicurezza Non sono Adeguati E poi Blitz Della polizia In via Sacco E via Lago Di Capestrano Trove in casa Di una 76enne E dei due figli I vicini Fanno arrestare Gli spacciatori Avanti ancora La tragedia Dell'outlet Bimba Uccisa Dalla statua Il PM Chiede Se condanne Tre anni E otto mesi Di reclusione Per tutti Gli imputati Per omicidio colposo La piccola russa Fu schiacciata Da un giocogliere Di bronzo Sentenza Il 17 Maggio E poi I lavori A Pescara Sul lungomare Riviera Riapre Al traffico Il primo tratto Oggi pomeriggio Si torna a circolare Tra via Cavour E via Ragazzi Del 99 In via Primovere L'asfalto Sarà finito Tra pochi Giorni E poi in taglio medio Bandiera verde A Pescara E a misura Di Bimbo Riconoscimento Dalla società Di pediatria Alla qualità Dei servizi In spiaggia E alla sicurezza Delle acque Ancora Pagina 20 Bip E calciatori In campo All'Adriatico Per la partita Solidale L'evento Organizzato Dall'Associazione Armonie Si svolgerà Il 6 maggio Ricavato Andrà Alla Wildm Avanti ancora Siamo alle pagine Di Montesilvano Evasione Tari Nelle case Gli ufficiali Di riscossione Assunti Grazie a una convenzione Tra comuni Due incaricati Arrivano Da Roseto L'assessore Comardi Attenzione Rilasciano notifiche E non chiedono Soldi Avanti ancora Ballinatori In lutto Muore a 44 anni Il ristoratore Della bussola Andrea Piersante Aveva scoperto Da un anno Di essere malato Il dolore Di amici E colleghi Una persona Splendida Avanti ancora Siamo a Francavilla Ripascimento Entro maggio Dalla regione 185 mila euro L'intervento Sarà nella zona nord Con 15 mila metri cubi Di arenile Padovano Della Sibba Altra sabbia Anche per il litorale Del centro E della parte sud Proseguiamo Siamo qui Nel Pescarese Strada dissestata A protesta Del comitato Maiella Morrone Siamo a Santufemia A Maiella Affissa Alle transenne D'ordinanza Della provincia Dell'Aquila Di giovane Compromessa L'economia Dei centri Montani Pagine Di Chieti Con la tragedia Davanti al policlinico Malore Alla guida Si schianta E muore Infarto fatale Per un pensionato In via dei Vestini Tre specializzanti In medicina Hanno cercato Di soccorrerlo Con il 118 Ieri c'è stato anche A causa appunto Del malore Della persona Che poi È morta Proprio a causa Di questo malore L'auto che guidava Ha tamponato Altre vetture Ecco qui I titolari Delle altre vetture Che sono state Successivamente Tamponate Proseguiamo Ancora La cronaca Ateneo A processo Ex rettore DG Devono rispondere Di abuso E falso Le indagini Partirono Dall'esposto Di Capasso Sui lavori Da 15 milioni Da realizzare Alla bucciante L'inchiesta portò All'interdizione Dell'ex vertice Dell'università E alle elezioni Anticipate Poi ancora Autista Di bus Morto Oggi L'addio A Ortona Emersi dall'autopsia Problemi cardiaci Per Danteo Si rafforza L'ipotesi Del malore Prima dello schianto Pagine di Teramo Parto Eccezionale A Teramo Mamma Per la prima volta A 54 anni Al Mazzini Con un cesareo Dalla luce Una bimba Di quasi 3 chili Ha fatto la fecondazione Assistita Fuori Regione Poi ancora La truffa Ex Tercas Di Matteo Va condannato A 6 anni Le richieste Del PM Per l'ex Direttore generale Per altri 14 Dirigenti Chiesta La soluzione Per 13 Dipendenti E poi ancora Siamo a Pineto Operata La bimba Di 5 anni Azzannata Al viso Dal cane Di casa La piccola È stata Sottoposta All'intervento All'ospedale Pediatrico Salesi Di Ancona Le sue condizioni Sono buone Sull'aggressione Sono stati avviati Accertamenti Da parte Della Polizia E poi ancora Silvi Fermi i lavori Sul Belvedere Franato Da tre settimane Il cantiere Non va avanti Ma secondo L'ex Assessore Partipilo Ripartirà A giorni E poi Sempre a Silvi Ci sarà Una tre giorni Di festa Dello sport Con la Race Across Italy E allora Andiamo a vedere Il servizio Realizzato dal TG6 Su questa Manifestazione E noi ci ritroveremo Per la seconda parte Di mattino 6 Perché dopo Il servizio Vedremo le previsioni Meteo E poi la pubblicità Tre giorni Di grande sport 28 29 30 A Silvi Marina Il centro Di gravità Sarà il centro Universo E il suo Sport Club Che all'interno Della festa Dello sport Della cittadina Adriatica Sarà il punto Di riferimento Per alcune Delle manifestazioni Principali Di un calendario Ricco e fittissimo Innanzitutto Ospiterà la partenza Della sesta edizione Del Race Across Italy Un adriatico Tirreno Adriatico In bicicletta Attraverso Tutti i parchi Del centro Italia Un evento Si chiama Di ultra cycling Sono 770 Km in linea E ogni partecipante Sul nostro percorso Potrà gestire Al meglio delle sue possibilità Insomma La strategia Della manifestazione Quest'anno La grande novità È che partiremo Ecco Grazie al centro universo Che ci ospiterà Partiremo dal centro universo Quindi Atleti che vengono Da 16 nazioni Attraverseranno Percorreranno Questo percorso Che attraversa Un po' Tutti i nostri parchi Domenica 29 Poi spazio Anche all'acqua E alla corsa Lo sport club Infatti Vedrà i più piccoli Misurarsi In una manifestazione Di acquatlon Facciamo concorrere I bambini Dai 6 ai 18 anni I nuovi I futuri triatleti E faranno Acqua E corsa Quindi faranno I più piccolini 25 metri In acqua E dovranno correre Per 100 metri Più grandi faranno 1500 metri E circa un chilometro Di corsa Quindi è un evento Per noi importante Perché è un evento Interregionale Che Questo è il primo anno Che lo organizziamo Ma sarà un evento Che cercheremo Di organizzare Tutti gli anni Dove cercheremo Di incentivare I giovani atleti Turismo Dal carattere Sempre più sportivo Con la Proloco Silvanola Impegnata Nella co-organizzazione Insieme alle varie associazioni Degli eventi Di primavera Abbiamo co-organizzato Insieme alla Race Cross Italy Questa festa dello sport Quest'anno Con la novità È che lasciamo le piazze Ma siamo stati ospitati Dal centro universo Quindi tutto il centro Sarà teatro Di sport Aperto a tutti Sport che vanno Dal tiro con l'arco Al ternistavolo Al karate Piuttosto che la ginnastica Artistica O al group cycling La Proloco Ha questa missione Quella di essere A disposizione delle associazioni Fare da aggregante Per la promozione Del territorio E del turismo Quindi ci è sembrato Giusto essere a fianco Di questa bellissima Organizzazione Per la festa dello sport Il centro universo Dunque si conferma Attrazione Fortemente sportiva Con l'ambizione di diventare È il riferimento principale Per il riferimento principale Per atleti di ogni genere Noi siamo Ovviamente Contentissimi Di poter ospitare Questi eventi sportivi Abbiamo creduto molto Nel progetto sport Considerando che abbiamo Dedicato un'area importante Con centro piscine Palestra E quindi il nostro centro È dotato di una grande Area sportiva Avremo a breve Due grandi brand Che arriveranno Nella nostra galleria Stiamo completando Tutti i lavori E per questo motivo Abbiamo creduto Di ospitare loro In modo tale Che questo centro Diventa un punto Di riferimento Sul territorio Sul tessuto Ovviamente sportivo Perché gli atleti Lo iniziano a individuare Come un appuntamento Annuale Ma soprattutto Dove i ragazzi Si possano avvicinare Per entrare Nel mondo Della competizione Dell'agonismo Di nuovo Buongiorno Seconda parte Di mattino 6 Andiamo a concludere Con le pagine Aquilane Del centro Il giallo Di Carsoli Uccisa In casa A 46 anni Il corpo nudo Trovato sul letto Segni di violenze Sospetti Sul compagno Ecco qui In questa foto La vittima E qui Il sospettato Appunto Il compagno L'uomo ha dato L'allarme Con una telefonata Ai carabinieri Ma il racconto Presenta contraddizioni Nella sua abitazione E sequestrate Lenzuola Con tracce Di sangue Poi spunta La testimonianza Del vicino In quella stanza C'è stato un acceso Litigio Due giorni prima Del ritrovamento Ha sentito Urla E tonfi E poi I precedenti Sei mesi fa La badante Massacrata Nella vicina Colli Di Montebove Nel 2013 Il duplice Femminicidio A Pescina Selmanai E Allergastolo Per avere sparato A moglie e figlia Nello stesso anno Un analogo episodio Avvenuto Nel parcheggio Di un supermercato Di un supermercato Di Bazzano E poi ancora La perdonanza 2018 Il cardinale Brasiliano José Bras De Aviz Aprirà La porta Santa L'arcivescovo Petrocchi Inaugurerà Il giubileo Aquilano Che tornerà Per la prima volta Dopo il sisma In Basilica Lasciamo il centro Andiamo sul messaggero Abruzzo Riprendiamo con Questa pagina Di politica Il doppio ruolo Del presidente Senatore D'Alfonso D'Alfonso Incompatibile Ultima parola Al consiglio La giunta Regionale Per le elezioni Demanda la questione All'assemblea Deciderò Solo dopo la convalida Da sospiri Movimento 5 Stelle Attacchi Durissimi Le otto Pagine Del governatore Anche Mazzini Garibaldi Non furono Convalidati E poi Enrico Paolini L'ex vicepresidente Della regione Verso la nomina Presidente Saga Proseguiamo Siamo Sulle pagine Di Pescara L'ossessione Ha scatenato Il killer Prima notte In carcere Per Roberto Mucciante Arrestato Per l'uccisione Del vicino Di casa In via Pian delle Mele Ero Disturbato Dai rumori Del bocchettone Dell'aria Ha detto Ma i familiari Della vittima Lo smentiscono Solo una lamentela Salvatore Russo Accolterato Mercoledì Nel garage Al pieno terra Un'aggressione Violentissima Dall'interrogatorio E dell'autopsia In programma Domani La verità Le verità Che mancano Alla ricostruzione Avanti ancora Prova Costume Partita La corsa A diete Fitness Tempi sempre più Stretti Tra cappotto E bichini Prendono in contropiede Le donne Non solo Da dietologi Estetiste Personal trainer I consigli per arrivare In forma All'ombrellone Proseguiamo E siamo sempre A Pescara Un tribunale Ecclesiastico A Pescara Separazioni In aumento E troppo Lavoro Per i giudici La curia Si stacca Da Chieti La nuova sede Sarà operativa Dal prossimo Autunno Decisioni più Rapide Dice Il Vescovo E poi L'inchiesta Paziente morto Dopo due operazioni Medici scagionati Dalla perizia Del GIP Nessuna censura Possibile Secondo la consulenza Per la condotta Dei quattro chirurghi Pagine Aquilane La centrale Del 118 Si sdoppia Divampa La polemica Politica L'assessore Regionale Paolucci Contro il primo cittadino Ha il dovere Di leggersi Le carte Palumbo Albano E Biondi Si farà qui A Pescara Come previsto L'Iris Rintuzza Regione schizofrenica E' giunto il momento Di fare Chiarezza Avanti ancora Siamo sempre A L'Aquila Traffico Dischi Orari E nuove Fermate Bus L'assessore Mannetti Annuncia La prima Mini rivoluzione Sosta Temporanea In alcune zone Ma senza pagamento Prevista la messa in sicurezza In Viale della Croce Rossa Saranno ampliate anche le fermate Dei pullman Extra Urbani Il provvedimento interesserà Il Torione Piazza d'Armi Viale Corrado Quarto Villa Villa San Bernardino Proseguiamo Siamo Non proprio Nella Marsica Ma siamo Nella Piana del Cavaliere A Carsoli Trovata La Trovata morta Massacrata Di botte Potrebbe Trattarsi ancora Di Un Femminicidio La vittima È la romena Violetta Blindescu Fidanzata Con un Conazionale Il compagno Si dice Estraneo Fermato dai carabinieri È stato poi Rilasciato Dopo un Lungo Confronto Gli investigatori Non escludono Che il Decesso Possa essere Stato causato Da stenti E segregazione Viveva in centro Ma Nessuno L'ha mai Vista Si è scoperto Che la donna Era in uno stato Di degrado Inimmaginabile Le Pagine Di Chieti Regge Il castello accusatorio A processo Di iglio E del vecchio Falso Abuso d'ufficio E usurpazioni Di funzioni Nell'inchiesta Nata Dalla denuncia Di Capasso Prima udienza Ottobre L'Ateneo Parte Civile Chiede un milione Di risarcimento D'anni Il Gup Deninis Ha rinviato a giudizio L'ex Vertici Della D'annuncia Poi di spalla Al teatro Marrucino L'omaggio A De Filippo Alle 21 In scena Lo spettacolo Non ti pago Musica e fumetti Allo Stamptisch Incontro Al Galiani Proseguiamo Sempre con la crona Che a piedi pagina Leggiamo Per seguita L'ex Dai domiciliari Lo spacciatore Diventa stalker L'altro arresto Siete Dei servizi segreti Giubbotte Un uomo Finisce in manette Patteggia Otto mesi A Lanciano Iannaurato Si dimette Ater In salute Il neoconsigliere regionale Del PD Lascia anche altri due incarichi Comunità montane Dal primo maggio Presidenza provinciale Di Ampi L'ex commissario straordinario Dice Ha aumentato il patrimonio Con personale qualificato Ora in cantiere Oltre 8 milioni Di appalti E siamo alle pagine Di Teramo Tercas Sei anni A Di Matteo Il PM 14 Richieste di Condanna Il PM Silvia Medori Che ha redditato il fascicolo Dal presidente PM Titolare Irene Scordamaglia Presunta Truffa 17 milioni di euro Di azioni Vendute ai clienti Come pronti Controtermine Per il responsabile Dell'area Finanza Pensilli Chiesta la stessa pena Dell'ex Direttore Generale E poi ancora Di spalla Prati Editivo Si cambia E riapre A fine maggio Impianti sciistici Previsto un bando Per la gestione Pluriannale Da parte Dei privati E poi Sempre ieri In comune E in prefettura Il sit-in Di protesta Per il posto Di lavoro Da parte Dei dipendenti Tercop Avanti Siamo A Giulianova Il treno Dei desideri Ferma A Giulianova Dal 10 giugno Al 16 settembre Il freccia bianca Di Trenitalia Collega la città Con Milano E con Taranto Con due convogli Oltre 6.000 persone L'anno Usufruiscono del collegamento Il sindaco Mastro Mauro Beneficio Per la provincia Di Teramo La biglietteria Effettua servizio Nella sola Mattinata Dalle 6.10 Alle 13.15 Grave disservizio Per il primo Cittadino E poi ancora Sempre a Giulianova Opere abusive Due lidi E un ristorante Ricorrono al TAR Contro le demolizioni L'ufficio Tecnico Chiede ai bagni La piantina Degli ombrelloni Spiaggia E le relative Stradine Lasciamo il messaggero E approdiamo Sulle pagine Della città Il quotidiano Della provincia Di Teramo Ecco qui Siamo subito A pagina 5 Truffa Sulle azioni Tercas Chieste 15 condanne PM chiede 6 anni Per l'ex DG Di Matteo E pene Tra 2 anni E 6 mesi Per i dirigenti E i direttori Di figliale Operazione Oscura Così il PM Medori Definisce Il patto Dei cosiddetti Pronti Controtermine Che in realtà Erano azioni Ad alto Rischio E qui di spalla C'è questa tabella Riepilogativa Con Tutte le varie Posizioni In merito Alle richieste Del PM Medori Si va Dai 6 anni Richiesti Per Antonio Di Matteo L'ex DG Di Bancatercas E Lucio Pensilli Dell'area Finanza 4 anni Per Alessio Trivelli E poi via via Tutti gli altri Chiesta anche La soluzione Perché Il fatto non sussiste O perché non ha commesso Il fatto Per una serie Di dipendenti Della banca Proseguiamo Siamo Alla politica Di Dalmazio È stato il primo A chiedermi Di candidarmi Morra Dice di non essere Stupito dalla decisione Dei civici Di correre da soli Mi confronto Con i cittadini Movimento Idea E azione politica Non appoggeranno Morra Il candidato alternativo Sarà il consigliere Regionale Di idea Mauro Di Dalmazio E poi Per quanto riguarda I sottanegliani Non schiereranno Il simbolo Di Abruzzo Civico Ma potranno correre Liberamente Nelle liste Per Morra E poi in basso Anche l'Udc Chiede unità Su Giandonato Morra Proseguiamo La Lega Non ufficializza E prende ancora tempo Non si sa ancora Se il partito di Salvini Correrà da solo Con un suo candidato Se sosserrà Morra Con gli alleati La cronaca Gommeur Iniziato il processo Per evasione L'azienda di Notaresco Avrebbe emesso Fatture a Lata Che allarpa Per cambi gomme Inesistenti O non dovuti E poi ancora Pagina 9 Ora il problema Sono i lavoratori Tercop Sitini in Comune Prefettura Per il bando Delle strisce blu Con parcometro Che li ha tagliati fuori Vediamo a tal proposito Il servizio del TG6 Sitini protesta Sotto la sede Del Comune di Teramo Contro il nuovo piano Dei parcheggio E pagamento Elaborato dal commissario Prefettizio Luigi Pizzi La determina del bando Che introdurrà I parchimetri È già stata firmata E prevede 18 licenziamenti Su 27 lavoratori Della cooperativa Sociale Tercop Attuale gestore Del servizio Strisce blu Nel centro storico Della città A protestare In strada Contro una gara Che manderà a casa Decine di operatori C'erano anche I rappresentanti Dei sindacati Cigelle e Cisle Di Teramo Che insieme Ai dipendenti Della Tercop Hanno poi incontrato Il commissario Per una possibile Ma difficile Mediazione Qual è la situazione Cosa chiedete Cosa sperate Di ottenere Visto che già C'è una determina Noi speriamo Di ottenere Condizioni migliori Rispetto a quelle Che sono previste Nella determina E quindi Nel bando Che si prepara Che il comune Che il comune Sta predisponendo Perché il problema Che noi poniamo È quello ovviamente Della salvaguardia Occupazionale E della possibilità Per i lavoratori Della Tercop Di gestire Debiti pregressi Che si sono Accumulati A causa Della incapacità Della politica Cittadina Di decidere Oggi il commissario Ha anche peggiorato Diciamo L'inerzia Di tutti i politici Che abbiamo incontrato In questi anni Ovviamente In sedi istituzionali E per ragioni istituzionali Chiediamo Che ci sia Che siano Riassunti Tutti e 26 Lavoratori Oggi Stanno facendo Un bando Che prevede L'occupazione Per 9 lavoratori Soltanto Sarebbe Diciamo Una disgrazia Per tutti I dipendenti Della Tercop Che noi conosciamo Che una cooperativa Sociale vera Che sta su Teramo Sono tutte persone Che vediamo Da sempre E che rischiano Non solo Di perdere il lavoro Ma anche Il disastro economico Perché il debito Che oggi La Tercop Ha nei confronti Del comune Ricadrebbe Sulle teste Dei lavoratori Oggi attualmente Impiegati E proseguiamo Sulla città Le notizie Dalla provincia Siamo a pagina 11 L'ira di Renzo Sugli impianti Dei prati Assurde Le polemiche Di chi ha debiti Con la granzasso Teramano Pronto A prendere provvedimenti Renzo Ovviamente Presidente Della provincia Di Teramo Renzo Di Sabatino Su 106 Giorni di apertura Ci sono stati Più di 38 giorni Di vento Con velocità medie Superiore ai 50 km Orari E 61 giorni Con temperature Superiore allo zero Le precipitazioni Nevoce Sono state Di due terzi Inferiori Alle passate Stagioni Poi il prossimo Il prossimo bando Per l'estate Si andrà avanti Con la gestione diretta Poi verrà riproposto L'affidamento Per 5 anni Dalla Val Vibrata Le notizie Qui in particolare Con la politica Nel comune Di Nereto Di Flavio Non si ricandida Alle elezioni Il sindaco Uscente Rinuncia Alla corsa Per le amministrative Le motivazioni Il distacco Dal modo attuale Di fare politica La volontà Di lasciare Spazio Agli altri Rapidamente Vediamo anche Le altre pagine Dalla provincia Giulianova Pressing Sulla provincia Per i lavori Al ponte Mastromauro Chiede tempi Ristretti Per la giudicazione Dell'appalto E poi ancora A Roseto Degli Abruzzi Autoporto Il sindaco Punta Al frazionamento Dei terreni Soluzione imminente Per l'insediamento Di nuove imprese Tra le interessate In prima fila Ci sarebbero La Sagem Una ditta Di autotrasporti E una impresa Ambientale E poi ancora A Pineto Inchiesta Sulla bimba Azzannata Al volto Il servizio Veterinario Avvia le verifiche Sul cane Che ha attaccato La piccola Che intanto Ha riportato Ferite gravi Al naso E alla guancia Per ora La prognosi È di Trenta giorni Proseguiamo E andiamo Nella pagina Dello sport Ecco qui Pagina 21 Con l'articolo Di Jacopo Forcella Teramo È l'ultima possibilità Per salvarsi Coppia d'attacco Bacio Terracino Gondo Grande attesa Per la città Che è già pronta Alla mobilitazione San Domenico Sarà assente Per squalifica Giocheranno I titolari Perché le alternative Non danno garanzie sufficienti Sarà una delle ultime recite Per una squadra Da rivoluzionare Poi di spalla Per la penultima giornata Di Serie D Il San Nicolò Giocherà Sul neutro Di Sant'Egidio Alla vibrata Rapidamente Uno sguardo Alle prime pagine Nazionali Per quanto riguarda i quotidiani sportivi Ecco qui L'apertura della gazzetta Dello Sport Che punta sul big match Di domani sera Il derby d'Italia Tra Inter e Juve È un derby d'Italia Rischia tutto Oltre 5 milioni di incasso Domani a San Siro Record assoluto Per spalletti Allegri Non ci sono in ballo Solo Champions e Scudetto Ma anche il loro futuro E non sono gli unici Sotto esame Poi Sotto la testata Berlusconi Ancora tu Finirà Che il Milan Me lo ricompro Ieri una frase Che si è fatto Scappare L'ex presidente Del Milan Silvio Berlusconi Nell'ambito poi Della sua Campagna Elettorale Che sta Svolgendo In questi giorni In Friuli E poi Calcio e diritti TV Scontro aperto Tra Media Pro E Sky Il Corriere Dello Sport Basta Incidenti di Anfield Malagò durissimo Al nostro calcio serve Un salto culturale Viminale In allarme Per Roma e Liverpool In arrivo 5.000 tifosi E poi Di Bala O mai più Con l'Inter Si gioca la Juve All'orizzonte Spunta Cavani E poi ancora Tutto sport Diviso in due Adesso via La maschera Il riferimento È a Paolo Di Bala Della Juventus E poi Ricompro il Milan Con il riferimento Ovviamente A Silvio Berlusconi Torniamo sui quotidiani Locali Andiamo sul centro Con le pagine Dello Sport Fornasier Prova Oggi Pronto Gravion Difesa a pezzi Bobo non è al top Assenti Coda E Campagnaro Domani il Pescara Sarà impegnato Nello sconto diretto In casa della Ternana Se il centrale Veneto Non ce la farà Spazio all'ex Benevento In Bill Delfino Non ha mai vinto A Liberati L'ultimo successo In C1 Nell'82 Questa è la tabella Riepilogativa Della lotta salvezza Con le squadre Coinvolte E il rispettivo Calendario In basso Il doppio ex Il tecnico Giuliesse Francesco Giorgini E uno spareggio Chi perde È nei guai Ancora E siamo Alla Serie E C Teramo Area di Esodo Per Fano Difficoltà nel reperire i mezzi Ma i tifosi vogliono seguire La squadra E domani Li inciteranno Alla rifinitura E poi Vediamo Avezzano Paris Inibito per un anno Faceva il Procuratore Avanti ancora E Siamo Al Basket Con questa intervista Al coach Nino Marzoli Mitici quegli anni 70 Allievo della scuola Slava Protagonista Con la Rodrigo È una ferita Sanguinante L'esonero Dalla Proger Nel 2013 2014 Andiamo sul Messaggero Abruzzo Con le Pagine Dello Sport Ecco qui Difesa Del Pescara Esame di maturità Contro 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 Ternana Piloni In emergenza Tocca Ai giovani Perrotte Gravion Insalita La delicata Sfida Per la salvezza Fuori causa Fornasier Coda E Campagnaro Ecco qui Esame di maturità Per la difesa Del Pescara Però Neanche Decagno Il grande ex allenatore Della Ternana Ride Si ferma Infatti Il bomber Montalto Autore di ben 20 gol In questo campionato Cadetto In basso Per la serie D L'Aquila Candeloro Strizza Locchio In programma Un incontro Gulluni C'è anche un altro gruppo Interessato E poi ancora L'ultima pagina Di sport Del Messaggero Per la serie C Teramo Verso Fano La città Si mobilita Appello Lanciato da alcuni gruppi Di tifoseria organizzata Che ieri mattina Hanno affisso Gli striscioni In diversi punti E poi In alto Avezzano Il presidente Paris Squalificato per un anno Il patron Ha fatto Da procuratore Stop Anche al Segretario Di spalla Per il basket Sharks L'ex Casa Grande Roma Team in progress Il capitano Si è ripreso Dall'infortunio E sarà in campo In gara 1 Chiudiamo qui La rassegna stampa Di mattino 6 Vi ricordo Le principali edizioni Del TG Ore 14 Ore 19 E ore 23 Ringrazio in regia Silvia Gentile Ringrazio voi per la cortese Attenzione Buona giornata Grazie a tutti Grazie a tutti